Buonasera a tutti e benvenuti. Questa sera parleremo di Expo e di bamboccioni. Questo perché a pochi giorni di distanza dall'inaugurazione di Expo 2015 vi sarebbero stati, a dire di un quotidiano a grande tiratura nazionale, circa 8 giovani su 10 che avrebbero rifiutato un lavoro di circa 1300 Euro mensili per i 6 mesi di esposizione 2015 e quindi un'opportunità di lavoro assolutamente intrigante, assolutamente importante, al di là che per quelle che sono le vicissitudini economiche del momento, ma anche per promuovere se stessi, per trovare nuovi spazi, per trovare magari anche lavori a tempo indeterminato. Quindi 8 giovani su 10 rifiutano di andare a lavorare ad Expo. Questo dato avrebbe anche un pochino sconcertato il commissario straordinario di Expo e in buona sostanza anche tutti noi italiani perché così immediatamente siamo ritornati indietro al passato, governo Monti, ministro Padoa Schioppa, i bamboccioni italiani, ovvero tutti quei ragazzi che non avrebbero mai avuto voglia di lavorare, preferendo il rimanere in casa con la mamma, con gli zii, con i nonni, con la paghetta e comunque con poca voglia di porsi sul mercato e di diventare responsabili. Non è una bella figura sicuramente per l'Italia, per quelli che sono poi i quotidiani extranazionali che ci leggono, sempre puntando il dito appunto sui giovani italiani, con poca voglia di lavorare. Beh, questa è una voce, questa è una campana, campana pubblicizzata da un'agenzia di lavoro interinale molto importante incaricata di gestire, di ritrovare forza lavoro per l'attività di Expo. Le polemiche sono state tante, però qualcuno ha anche pensato bene di sentire questi bamboccioni, questi ragazzi con poca voglia di lavorare. Ricordiamo che peraltro la percentuale era elevata per quanto riguarda ragazzi in possesso di titoli di laurea, l'età 18-30 anni, 77% delle domande italiane, 74% provenienti dal nord. Eppure, eppure, forse i fatti non sono mai come vengono raccontati dal cosiddetto arruolatore, datore di lavoro, ma anche magari dai lavoratori che non hanno accettato lo stesso lavoro. Sono stati sentiti appunto, dicevo, questi giovani e si parla di una grandissima differenza rispetto alle motivazioni date ufficialmente. In realtà si dice che la remunerazione non era di 1.300 euro, forse era di 750, forse ancora era di 500 euro, ma al di là di questo i giovani bamboccioni non sarebbero stati spaventati dal fatto di lavorare il sabato, la domenica o durante le vacanze, anche perché avevano ben messo in preventivo di fare un lavoro di anche pochi mesi, con una buona remunerazione, rinunciando ai lavoretti precari attuali, ma con grande e buona forza di volontà. Però nessuno dice che questi giovani, tanti dei giovani poi ammessi, così in gennaio venivano accettati, arrivava una comunicazione, va bene, siete accettati, potete poi presentarvi successivamente per colloqui e per quanto altro, ma da qui nessuno si faceva sentire da parte di questa agenzia che chiamava con numeri anonimi, che non riceveva risposte, che chiedeva comunque comunicazioni mail, fino alla metà di aprile. Nessuno poi dice che comunque una volta fattasi sentire l'agenzia avrebbe detto, bene, allora guardate che verrete poi ricontattati per organizzare meglio il programma contrattuale, anche qui il silenzio totale. Ancora altre mail, guardate che il lavoro inizia il 21 aprile, poi un'altra mail di ritorno, no, non è più il 21 e il 22, e lo stesso 22 di aprile una richiesta, sempre a questi bamboccioni, distillare un questionario dicendo che solo il 70% delle risposte valide avrebbero comportato l'accesso al lavoro. Tutto questo senza spiegare quale lavoro, quali costi, quale contratto, quali modalità e con un questionario dove si parlava di questioni assolutamente tecniche riguardanti Expo che ben pochi avrebbero potuto superare. Ma che dire, ci sono commenti anche salaci perché non voglio segnalare commenti dove si dice andate in Africa a prenderveli i lavoratori che è meglio per il modo in cui ci trattate. Non lo so, sta di fatto che forse la volontà da una parte, anche da parte di questi presunti bamboccioni, forse vi era. La capacità organizzativa dall'altra parte, forse vi era, ma forse senza aver trovato quell'accordo indispensabile fra reclutatore, datore di lavoro e lavoratore. E quanto altro, ecco, relativamente a quelle che sono le notizie ufficiali. Sta di fatto che comunque i lavoratori poi alla fin fine si sono trovati. Il quadro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato è completo, ci sono anche i volontari. Tra pochi giorni inizia Expo 2015. Buona fortuna a tutti. Grazie. Grazie.